Ciao a tutti e bentornati all'ultima puntata del 2023 di Tessiland con Division. Ebbene sì, si conclude un ultimo anno fatto di tantissime creazioni meravigliose. E a proposito di creazioni, iniziamo subito. Quest'oggi parleremo di tre progetti. Parleremo di accessori, collane, cappelli e per concludere poi un meraviglioso cardigan. Ho già spoilerato un po' troppo, ma insomma a Natale siamo tutti più buoni. Iniziamo subito con il primo progetto di oggi che è di Alberta Rizzari, non primo ovviamente della nostra sigla. Alberta ha realizzato questa meravigliosa collana con illumina 6 e poi cristalli e perle da 4 e 6 mm. Ha preso spunto, le più attente sicuramente l'avranno già capito, dalla collana grappolo della Fatta Tutto Fare. Ci ha inviato un audio, è stata bravissima e sarà anche accompagnato con alcune foto. Quindi guardiamo, ascoltiamo insieme. Buonasera, io sono Alberta e sono l'autrice della collana, quella della Fatta Tutto Fare, la collana grappolo. Allora io parlo un po' di me, sono un'insegnante di scuola dell'infanzia, abito a Milano e da sempre ho la passione per i bijoux e comunque in generale le cose, gli oggetti fatti a mano. Per realizzare quella collana appunto ho seguito il tutorial della Fatta Tutto Fare e nello specifico la collana grappolo e la differenza tra quella della Fata e quella che ho realizzato io è che la mia è realizzata con dei cristalli da 4 mm e delle perle da 6 mm. Ho seguito il tutorial quasi totalmente alla perfezione, tranne che per farla meno carica ho utilizzato metà delle perle da 6 mm. Quindi ho usato 186 cipollotti da 4 mm, quindi quei cristalli, e 31 perle da 6 mm. e ho utilizzato un filo meraviglioso che è il filo Lumina 6, che tra l'altro è il mio preferito perché è molto sottile e quindi fa risaltare molto le perline che vengono utilizzate e quindi niente, quindi il lavoro poi risulta sempre molto morbido e non pesante. E cos'altro dire? E niente, sono molto contenta di aver scoperto questo materiale, ovviamente l'ho scoperto seguendo la pagina Facebook, guardando costantemente il sito e vi faccio i complimenti perché avete del materiale meraviglioso. Buonasera a tutti! Grazie infinite Alberta per queste bellissime parole, ma d'altronde materiale meraviglioso per clienti meravigliose. E adesso invece parliamo di Giulia Treve. Giulia ha realizzato questo meraviglioso cappellino con il berry e un bellissimo pompon fucsia. Una giovanissima Giulia, mamma già di due bimbe, che ci ha inviato un video in cui ci parla un po' di sé e anche ovviamente di questa dolcissima creazione. E quindi guardiamolo! Ciao a tutti, sono Giulia, ho 28 anni e sono mamma di due bambine, di 5 e di 2 anni. Ed è grazie a loro che ho scoperto il mondo dell'uncinetto, perché volevo fare a loro dei berretti e delle sciarpe per l'inverno, visto che abitiamo in mezzo alle dolomiti bellunesi. Così, girovagando in internet, ho trovato molti tutorial che mi hanno insegnato a lavorare all'uncinetto, anche se sono neofita, perché ho iniziato appena da 4 mesi. Ho scoperto anche questo sito, Tessiland, dove vendono tantissime cose, tantissime lane, tantissimi cotoni, dove poter comprare hanno una spedizione super veloce e hanno prodotti di ottima qualità. Ora vi presento il mio progetto, eccolo qui, è un berrettino, l'ho fatto per la figlia di una mia carissima amica che appunto si chiama Elisabetta. È stato fatto con un berry rosa a punto basso in costa dietro e la scritta invece è stata rifinita con un barnes sempre rosa. Poi ho preso anche il pompon. Detto questo, spero che vi piaccia, è un berretto molto semplice, come vedete, e buon lavoro a tutte. Ciao ciao! Brava Giulia, continua così, eh? Mi raccomando, siamo solo agli inizi. Continua. E infine il terzo progetto di quest'oggi. Ovviamente in quest'ultima puntata del 2023 non poteva mancare la foto che ho ottenuto. Più mi piace durante il mese di novembre. E parliamo di un meraviglioso cardigan caratterizzato dal piede pool di Silvia Locatelli. Allora, lei ha preso spunto da un tutorial della Fata Tutto Fare, che è la giacca Chanel Madeleine, ma ha anche qualche altro spunto. Ha utilizzato il Roxy in due varianti di colore, ci ha inviato anche lei un messaggio vocale. E quindi ascoltiamolo insieme. Ciao a tutti, sono Silvio, 34 anni. Sono originaria di Clusone, in Alta Valle Seriana, in provincia di Bergamo, ma attualmente vivo e lavoro a Siracusa. Da un anno lavoro all'uncinetto. Fin da piccola ho sempre visto mia mamma lavorarci, ma solo l'anno scorso mi sono appassionata e le ho chiesto di insegnarmi. Sfogliando tra i vari tutorial della Fata Tutto Fare, alla ricerca di un progetto da poter indossare in inverno, mi sono innamorata della giacca Madeleine Chanel, che però ho realizzato in versione panna e verde e senza frange. Il filato che ho utilizzato è il Roxy di Tessiland, un filato che, devo ammettere, mi ha messo in difficoltà perché è polveroso e quindi difficile da disfare in caso di errori, che per una principiante come me sono stati tanti. Ho utilizzato l'uncinetto numero 5 per la struttura a catenella punto alto e l'uncinetto numero 7 per le catenelle di riempimento. Sì, perché a differenza del tutorial della giacca Madeleine, ho preferito riempire i quadretti con catenelle seguendo il tutorial della Sharpa Barbary, sempre della Fata Tutto Fare, per avere un lavoro, secondo me, più omogeneo e compatto. Per me e la mia esperienza questo è stato un lavoro davvero impegnativo. È stato il mio primo lavoro a pannelli con la manica lunga. Io finora avevo realizzato qualche progetto in top down senza maniche. Avevo anche sbagliato a calcolare la quantità di filato, infatti a metà lavoro sono rimasta senza. Fortunatamente Tessiland ha provveduto a inviarmi lo stesso tipo di filato e quindi ho potuto concludere il lavoro. Comunque tutta questa fatica è stata ripagata dal fantastico effetto finale Piedepool che letteralmente mi fa impazzire. Beh, ha fatto impazzire sicuramente anche questo progetto, visto che ho ottenuto così tanti like. Quindi complimenti Silvia. E la puntata di Tessiland Condivision, quest'ultima puntata dell'anno, si conclude qui. Il primo doveroso grazie a tutti coloro che hanno partecipato a Tessiland Condivision e che quindi hanno permesso la realizzazione di questa rubrica. Grazie infinite perché ci avete parlato di voi, avete condiviso i vostri progetti e ci avete permesso a me in primis, ma anche a tutti coloro che seguono Tessiland Condivision di conoscere un po' di creatività in più e di condividere insieme l'amore meraviglioso per l'uncinetto e il knitting. Quindi un grazie doveroso va sicuramente a tutte voi. Poi i saluti di Rito. Vi ricordo di iscrivervi su tutti i nostri social e quindi YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, ormai lo sapete a memoria, ma io ve lo ripeto lo stesso. Iscrivetevi sul nostro canale e attivate la campanella perché a partire dal primo gennaio Tessiland riprenderà con tutti i reel, rubriche, dirette, di tutto e di più. Insomma, non ci fermiamo mai, lo sapete. Iscrivetevi sul nostro gruppo Tessiland, seguiteci, leggete il nostro blog scritto dalla penna ufficiale di Tessiland che è Rosaria e io non posso che farvi i migliori auguri di buone feste, ma soprattutto di un meraviglioso 2024 pieno di creatività, ispirazione, ma soprattutto felicità. Vi ringrazio ancora per tutte le meravigliose emozioni che ci avete donato in questo 2023 e noi ci rivediamo nel 2024. Ciao da Valentina! Queste le userai, cioè nel senso farai anche quest'anno un remake di Tessiland. Aspetta, non mette play, non mette play. Ok, no, no, no. Non mette play, metti play, non mette play, metti play, metti play, metti play, che sono le mie tante personalità. D'altronde sono un gemelli. Vado? Ci sono. Prova, 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 prova. Se faccio così poi mi si vede il brufolo, quindi non è una cosa da fare. Però ormai è così, mi sono portata i trucchi e vabbè. Mi subisco le conseguenze. Mi sono stancata un po' di fare l'idiota. Ci ha inviato un video. Ci ha inviato, ci ha inviato un video. E cercando anche di farvi... Ah, c***o. Buongiorno, Darmazzo. Buongiorno. Buongiorno, Darmazzo. Buongiorno, Darmazzo è limitata, solo per voi. Sì. Puoi prendere una cosa di solito. Puoi prendere questi spasmi. Dopo l'offerta di Amazon... Vuoi staccare? Vuoi fare? Stacca un poco, dai. Stacca un poco, dai. Perfettamente in sintonia con le nuove generazioni. Quindi davvero... Sono una donna esaurita. Stava guardando la filata per l'appunto di Moschino con Sofìo e Riccardo. La filata. Sì. La filata. La filata. Filata. Filota. Non siamo là. Sfilata, filata. Wow. Ma essa che capo. Ma se davvero riuscite a lavorare... Alla volare. Alla volare. Alla volare. Facciamo la chiesa di ciò di me.